Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo nuovo incontro Viaggio intorno all'Opera. Oggi siamo qui per vedere una nostra nuova novità di geografia per la scuola secondaria di primo grado e sono qui con Sergio Mantovani, l'autore di questo nuovo corso che si chiama appunto Geografia Viva. Buonasera Sergio, benvenuto professore. Buonasera a tutti. Allora, Geografia Viva, come vi dicevo, è il nuovo corso di Sergio Mantovani che è nostro autore già con altri due corsi, Geonatura e Geoprotagonisti. Questo nuovo corso è composto sempre da tre volumi e per ciascun volume abbiamo inserito un atlante dedicato alla didattica che è incollato alla seconda di copertina e il primo anno esce anche con un quaderno che abbiamo chiamato Il mondo in spalla dove c'è una rivista chiamata hashtag Passione Geografia dedicata ai ragazzi su argomenti di novità e ai percorsi a cura di Ericsson sulla geografia come esperienza. Il nuovo corso ha potenziato le caratteristiche un po' che ha sempre contraddistinto i corsi di Sergio Mantovani e cioè quello di trasmettere una passione per questa materia che sappiamo che è una materia comunque che i ragazzi fanno fatica ad approcciare che a volte si chiedono a cosa serva e quindi abbiamo cercato con il professore Mantovani che invece è molto appassionato di questa materia di cercare di trasmettere ai ragazzi un po' sia il piacere di questa materia l'utilità di questa materia e adesso vedremo con quali strategie abbiamo cercato appunto di mettere tutti questi ingredienti nel nuovo corso di Sergio Mantovani. Allora come vi dicevo una delle prime caratteristiche è quello di cercare di appassionare i ragazzi e le ragazze a questa materia e una delle strategie appunto che troverete in questo nuovo corso è quello di farlo attraverso un approccio interrogativo fare insomma imparare ai ragazzi a porsi delle domande e quindi iniziano sempre con delle domande e anche con la soluzione di geonitmi. Lascio però la parola al professore che ci spiegherà un po' meglio tutte queste caratteristiche. Sì, grazie Stefania per questa presentazione e buonasera e benvenuti a tutti. Effettivamente come dicevi tu Stefania prima ancora che essere insegnante di geografia e autore di geografia per me la geografia è una passione e speriamo insomma che traspaia da questi tre volumi. Io partirei subito con le slide che illustrano aspetti sicuramente tra i più caratterizzanti di questo corso che è la terza edizione ma che è ampiamente e fortemente rinnovata per capire appunto dove e come si caratterizza questo nuovo lavoro. Allora, vedete appassionare la geografia è catturare l'attenzione. Chiunque insegni, come immagino non pochi di coloro che stanno ascoltando e come me che sono appunto prima di tutto insegnante prima che autore di geografia nella secondaria di secondo grado sanno che un problema grosso con il quale ci si confronta quotidianamente nella scuola e con le classi è proprio quello di catturare l'attenzione degli alunni non solo con la geografia per la verità ma in generale e di insomma mantenerla possibilmente più di qualche minuto. Una prima soluzione diciamo se vogliamo chiamarla così sulla quale abbiamo puntato come diceva poc'anzi Stefania Meda è quella delle domande e dei geoenigmi. Cosa vuol dire parole povere? Vuol dire che come vedete per esempio in questa slide ogni capitolo innanzitutto si apre con una domanda in questo caso vedete siamo nel volume 1 e si parla di mari sostanzialmente e anche molte lezioni come vedete in questo caso nella pagina di destra la lezione stessa spesso non sempre come vediamo dopo si apre con una domanda una domanda che vuole essere uno stimolo per incalzare insomma un po' i ragazzi fin dall'inizio e nel contempo offrire anche qualche spunto magari interessante anche un po' particolare qui per esempio nella domanda di apertura del capitolo per esempio vedete si chiede perché a Sanremo gli alberghi sono aperti tutto l'anno e a Rimini che ha la stessa latitudine come si spiega poi nel breve testo sotto no ma soltanto pochi mesi e allora poi si va a spiegare qual è l'influenza marcata marcatamente diversa dei due mari diversi che le due località poste appunto alla stessa latitudine hanno di fronte un mar Ligure che a 20 km dalla costa da Sanremo per esempio ha già 2000 metri di profondità e invece un mare Adriatico che alla stessa distanza davanti alla costa di Rimini ha 10 o 20 metri di profondità e quindi si trova già uno spunto per anche approfondire questo aspetto cioè il diverso potere mitigatore di mare che poi si riflette anche sulla geografia economica come sanno bene gli albergatori di Sanremo appunto che possono tenere aperto il loro albergo tutto l'anno e quelle di Rimini che invece lo tengono aperto soltanto qualche mese e poi nella pagina di destra appunto qui inizia la prima lezione del capitolo 5 anche in questo caso si inizia con una domanda anche in questo caso forse l'apparenza ma solo l'apparenza banale perché l'acqua del mare è salata probabilmente non solo molti studenti ma anche credo molti adulti non saprebbero rispondere a questa domanda quindi vuol dire che già non è banale vedete che ogni domanda tra l'altro cioè qui ne vedete una sola poi lo vediamo anche vediamo la stessa cosa nelle pagine di apertura di altre lezioni sono contrassegnate da questo bollino verde con l'evidenziazione in giallo della domanda e parimenti l'evidenziazione in giallo della risposta che viene data nella stessa pagina quindi così come per la domanda che viene posta in apertura di capitolo si trova poi la risposta ovviamente in questo paragraffetto che segue allo stesso modo la domanda che viene posta questa domanda stimola appunto l'abbiamo chiamata così che viene posta all'inizio della lezione trova in questo caso addirittura ben evidenziata in giallo già la risposta nel paragrafo stesso nella pagina stessa insomma quindi anche l'insegnante chiaramente ha un compito molto facilitato questa pagina ripropone lo stesso lo stesso tema quindi siamo ancora in apertura di capitolo e ancora una volta con una domanda anche in questo caso una domanda che potrebbe anzi qui addirittura sono due per la verità che potrebbero apparire banali ma sicuramente non lo sono affatto per i ragazzini per gli studenti della scuola secondaria di primo grado ma forse anche quella di secondo grado per la mia esperienza non sarebbe banale nemmeno per loro più profondo il lago il mare vedete che ci sono i disegnini in sezione in basso di alcuni nostri laghi prealpini e del mare adriatico settentrionale e quindi si vede poi come in realtà magari l'idea che abbiamo in testo o che hanno in testo insomma i ragazzi viene ribaltata dalla realtà abbiamo laghi molto più profondi certo non di tutti i mari ma sicuramente per esempio del mare adriatico poi l'altra sembrerebbe veramente banale qual è il fiume più lungo d'Italia e ripeto queste domande hanno lo scopo come dire di rompere il ghiaccio e di incalzare un po' gli studenti subito in partenza no? ai blocchi di partenza e dicevo questa seconda domanda potrebbe addirittura apparire più banale perché ovviamente a tutti viene da rispondere forse già presumo in prima media il po' in realtà anche qui si vuole introdurre un elemento di arricchimento che è quello che si basa su un dipende più che su una certezza dipende quindi su una formula dubitativa e cioè se consideriamo effettivamente i fiumi che scorrono che hanno il loro corso interamente in Italia sì certamente il po' ma se consideriamo i fiumi italiani Tukur no scopriamo che una nostra convinzione profondamente radicata crolla perché in realtà in Italia c'è anche un fiume che si chiama Drava che è più noto per essere un fiume austriaco certamente affluente dal Danubio ma che ha pur sempre le sue sorgenti in Alto Adige e in Alto Adige vicino a San Candido il suo primo corso è in Italia in Alto Adige quindi un fiume italiano anche questo ben più lungo tra l'altro del Po questa slide l'abbiamo voluta introdurre per far vedere che le aperture delle lezioni che sono sempre contrassegnate come dicevo da questo bollino verde non sono tutte le volte basate su una domanda a stimolo ma in qualche caso anche o meglio in qualche caso la domanda si rifà a un grafico o a una tabella come vedete in questo caso il grafico nella pagina di sinistra la tabella in quella di destra e quindi c'è anche una certa varietà insomma in queste aperture di lezione in tutti i casi si va sempre a dare comunque come vedete con l'evidenziazione in giallo la risposta già in pagina quindi i ragazzi gli alunni trovano già la risposta a questa domanda stimolo d'apertura ecco si parlava prima di aprire con delle domande ma anche con quelli che noi abbiamo chiamato geoenigmi perché nel caso delle macro-regioni sia del volume 2 macro-regioni europee sia del volume 3 cioè le macro-regioni dei vari continenti in questo caso vedete Medio Oriente e Asia Centrale abbiamo queste cinque foto in tutti i casi che riguardano degli elementi geografici ben localizzabili sulla carta lo vedete bene a destra con i numerini che si ricollegano ai numeri di questi brevi testi che ci sono sulle foto ognuno di questi brevi testi che può riferirsi come vedete non so in un caso una città in un caso una catena montuosa in un caso che ne so un mare un golf in questo caso il golfo persico e così via ognuno di questi paragrafetti introduttivi termina con una domanda che non ha in questo caso una risposta immediata evidenziata come nelle lezioni che abbiamo visto prima ma richiede diciamo una piccolissima ricerca che si può fare attraverso l'Atlante che è allegato attaccato proprio appiccicato diciamo al libro nel retro di copertina quindi l'alunno non deve fare altro insomma gli vedi che andare a guardare andare a guardare l'Atlante in qualche caso la risposta la vede già in questa carta che c'è nella pagina destra in qualche altro caso non deve fare altro che andare a aprire l'Atlante alla pagina opportuna e cercare lì la risposta a questa domanda di apertura si diceva appunto il tema è quello di appassionare come diceva prima Stefania Med che è fondamentale è terribilmente importante certo passione è una parola grossa come dico sempre anche i miei alunni io non posso pretendere che grazie scusami fai avanti che poi aggiungo una cosa a quello che dicevi prima sì certo era solo era solo per dire che io dico sempre ai miei alunni non posso pretendere che abbiate anche voi passione per questa materia posso provare e vedere se riesco a trasmetterla un'altra soluzione che secondo me è estremamente bella estremamente interessante da utilizzare che noi abbiamo utilizzato veramente a piene mani per raggiungere questo scopo è quello delle curiosità che erano piaciute per quello che so già nelle edizioni precedenti e che in questa edizione come vediamo adesso con un piccolo campione sono state parecchio rafforzate vai pure tu Stefania se volevi aggiungere sì volevo aggiungere due cose a quello che hai detto prima nella prima parte diciamo nel primo punto di forza perché volevo aggiungere semplicemente che sì per quanto riguarda le aperture di macro regione perché sappiamo che la geografia regionale è anche un pochino quella più ostica da far diciamo digerire ai ragazzi per cui abbiamo voluto appunto pensato di aprirla con delle grandi immagini con questo escamotage dei geoenigmi per cui di incuriosire i ragazzi un po' a risolvere e a rispondere a queste domande che la carta che si trovano lì che è una carta molto semplice proprio di impatto visivo in realtà è disponibile anche in versione digitale esplorabile dove loro troveranno le risposte agli enigmi e anche altri suggerimenti e altre attività e che appunto invece per rispondere a alcuni di questi enigmi hanno bisogno invece una carta geografica fisica e politica che trovano nell'Atlante in alto a sinistra si trova sempre il rimando di quale pagina dell'Atlante aprire in modo tale da poter andare a visualizzare la carta e quindi anche far imparare a osservare le carte a leggere le carte per introvare le informazioni per cui in realtà sono appunto pagine di impatto ma che in realtà cercano di introdurre anche a un metodo di lavoro della geografia e anche le domande appunto che tu prima facevi vedere sono tutta una strategia per stimolare alla lettura per motivare la lettura per stimolare anche il pensiero critico per far imparare a farsi domande e sicuramente un modo che speriamo possa essere utile agli insegnanti per agganciare e iniziare il discorso con i ragazzi e le ragazze della classe secondo punto appunto che adesso ti lascio la parola sempre per appassionare e catturare l'attenzione come vediamo nella slide con la geografia che incuriosisce e faccio un piccolo scoop torna diciamo una rubrica che è sempre stata un po' presente nei corsi del professore Mantovani che è geocuriosità ma lascio a te la parola sì grazie Stefania di questa precisazione come dicevo appunto la curiosità e ce ne sono veramente tante in questo corso come elemento peraltro non fini a se stesso ma come elemento che vuole certamente catturare l'attenzione dei ragazzi e ce ne sono veramente tantissime c'è veramente un mondo di curiosità nella geografia da esplorare da utilizzare da valorizzare ma anche si offre come come elemento non fine a se stesso ma come elemento dal quale partire poi anche per eventuali approfondimenti e questo poi ovviamente sta anche all'insegnante vedere come utilizzare ecco come dicevo qui c'è un campione di questi di queste curiosità che abbiamo inserito rafforzate non soltanto in termini numerici nei tre volumi ma anche in termini di spazio nel senso che non solo più soltanto dei piccoli box talvolta sì perché capite che quando magari uno stato trattato in due pagine non si potrebbe fare una pagina intera di geocuriosità se no non ci sarebbe più spazio per tutto il resto però là dove è stato possibile abbiamo messo anche delle pagine intere per esempio non so in questo caso siamo nel volume 1 siamo nel capitolo climi e ambienti e abbiamo messo appunto queste varie questi sorprendenti record come dice il titolo del clima italiano alcuni dei quali sono veramente sorprendenti dalle temperature più bassa 50 gradi sotto zero circa dove è stata raggiunta non sul Monte Bianco o comunque su qualche 4 mila uno dei pochi 4 mila italiani ma solo a 2600 metri in Trentino e la temperatura più alta tra l'altro recentissima come verosimile conseguenza del riscaldamento globale in Sicilia che è poi la temperatura più alta mai raggiunta finora in Europa e poi a destra invece le piogge più forti dove quando è caduta più pioggia anche qui ci sono dei record veramente sorprendenti perché in Friuli per esempio molti non lo sanno ma abbiamo avuto qualche anno con piogge veramente tropicali nell'arco dell'anno i venti più forti eccetera eccetera questa cosa serve anche perché per esperienza so che ai ragazzi in generale piace molto questa geografia dei primati dei record ora non vorrei essere frenteso non è che abbiamo fatto il libro dei primati della geografia però è chiaro che oltre a tutta quella che è la geografia di base che per forza ci deve essere i contenuti essenziali si è voluto appunto aggiungere tante di queste informazioni che possono magari essere più accattivanti appunto e curiose per gli alunni in questo caso vedete cambiamo completamente argomento ma come dicevo prima il bello di queste curiosità è che si trovano veramente in ogni branca della geografia e in ogni tra virgolette angolo si possono veramente scovare dovunque io a volte mi stupisco apre e chiudo una piccola parentesi del fatto che la geografia ai giorni nostri sia considerata ancora una materia come minimo ancillare quando anche non negletta perché in realtà la geografia si parla come sapete del mondo del mondo in cui viviamo che è straordinariamente complesso peraltro molto più di quello di magari di qualche decennio fa e però proprio perché ha dentro letteralmente il mondo e anche è anche una miniera inesauribile di curiosità in questo caso parliamo di geografia umana sempre dell'Italia e c'è questo piccolo box ma credo curioso e tutt'altro che scontato in cui il titolo dice cioè chiede se si muore di più in Italia o in Burundi se muore di più vuol dire dove il tasso di mortalità che ovviamente è già stato spiegato che cos'è è più alto io credo che se facessimo questa domanda non è ragazzi a volte la faccio e ovviamente 19 su 20 almeno se non 20 su 20 rispondono che il tasso di mortalità è più alto in Burundi perché chiedo beh perché le condizioni di vita sono ovviamente molto peggiore tra l'altro il Burundi è stato scelto non è caso è il paese al mondo attualmente più povero in assoluto negli ultimi anni secondo le statistiche internazionali del fondo monetario il paese più povero in assoluto siamo in una povertà veramente estrema e la cosa invece sorprendente che si va a scoprire qui è che invece il tasso di mortalità è decisamente più alto in Italia che in Burundi e che addirittura ben 52 stati su 54 dell'Africa presentano un tasso di mortalità più basso del nostro e questo è veramente sorprendente io credo che anche molti adulti ignorano completamente queste cose potremmo mettere anche la Germania al posto dell'Italia sarebbe la stessa cosa e allora si va a spiegare poi dopo ovviamente anche il motivo cioè è vero sì che in Burundi come in tanti altri paesi africani ci sono condizioni di vita molto peggiori purtroppo ancora oggi rispetto all'Italia e altri paesi europei ma è anche vero che la loro popolazione è talmente giovane e la nostra popolazione è talmente invecchiata che questo aspetto visto che per una legge scritta di natura è molto più facile morire da vecchi che da giovani in questo aspetto va più che compensare quell'altro e cioè la differenza in termini di condizioni di vita ecco poi per esempio questa doppia pagina che a me piace moltissimo sono proprio queste due facciate così come le vedete adesso che sono giuste apposte in questo caso dove si parla di economia la pagina di sinistra mi piace molto per questo la pagina di sinistra è stata messa in una cornice di giocuriosità poteva anche avere un altro titolo ma ad ogni modo visto che si parlava di industria e di e di distretti industriali ho detto perché non far vedere questa super eccellenza del made in Italy che può essere anche molto carina per i ragazzi e ancora una volta appunto attraente quanto basta insomma per catturare un po' la loro attenzione e per far capire che il libro di geografia non è quella cosa noiosa che hanno sempre pensato essere perché non facciamo vedere appunto il distretto della Motor Valley che è l'eccellenza una delle grandi eccellenze del made in Italy e l'abbiamo fatto in questo modo facendo vedere la Ferrari la Lamborghini la Maserati la Pagani che magari non tutti conoscono perché è più piccola di queste altre ma anche questa è un'industria emiliana di super bolidi la Ducati che i ragazzi sicuramente conoscono benissimo e poi dei tiranti che geolocalizzano tra modenese e bolognese perché poi siamo sempre lì appunto dove queste eccellenze dei motori vengono prodotte e poi invece nella pagina di destra un altro dei io credo di poter dire dei punti forti degli elementi molto caratterizzanti di questo corso e cioè questa rubrica che vedete avere per titolo la geografia per riflettere e qui vedete che c'è un titolo che vuole essere vuole stupire insomma un po' nel senso più industrie più lupi con un punto interrogativo porta subito a chiedersi credo che cosa c'entrano le industrie con i lupi siamo ripeto all'interno del capitolo dell'economia e in realtà ecco io credo che con pagine come questa la geografia venga a dispiegare appieno il suo potenziale e nel contempo venga a svolgere una delle sue funzioni più importanti che è quella come sappiamo di fare da cerniera tra diverse discipline e di mettere in connessione tra loro diversi fenomeni che apparentemente non c'entrano assolutamente nulla l'uno con l'altro e infatti uno dice cosa diavolo c'entrano le industrie con i lupi e in particolare se oggi abbiamo tanti lupi in Italia quanti non ne avevamo da secoli appunto che sono arrivati persino qui dove abito io in provincia di Cremona in mezzo alla pianura padana in mezzo al grano turco ma c'entrano qualcosa le industrie in questo breve testo si va a spiegare che c'entrano e come perché con parole ovviamente molto piane molto semplici si spiega che con il boom industriale del dopoguerra le industrie che sono andate a localizzarsi ovviamente in pianura e nelle città le periferie delle città hanno richiamato molti abitanti delle zone più svantaggiate economicamente in particolare degli appennini non solo ma in particolare degli appennini queste montagne che si sono svuotate sono state riacquisite diciamo nella natura in maniera rapida i boschi le foreste come vediamo si sono estese e vanno tuttora espandendosi in Italia una buona notizia perché giustamente non ci sono solo le brutte notizie ci mancherebbe anzi e si sono ripresi tanti animali tra cui quelli che sono poi le prede dei lupi e con essi un po' alla volta anche questo animale che negli anni 70 ha rischiato di estinguersi si è ripreso talmente bene che ormai ricordo che recentemente un paio di anni fa uno lo aveva trovato addirittura in un naviglio ha finito mal partito per la verità a Milano niente meno e quindi appunto si parte dal boom industriale del secondo dopoguerra per arrivare fino ai lupi che abbiamo oggi persino nella pianura padana spiegato tutto con parole molto semplici chiaramente molto comprensibile per ragazzi di questa età in questo caso siamo nel volume 3 si parla di siamo all'inizio nelle poche pagine di geografia astronomica che sono veramente pochissime però credo fatte anche queste in maniera piuttosto accattivante lo scopo è sempre quello di non annoiare insomma questo è l'obiettivo numero uno ma casomai appunto di come si diceva raggiungerli catturando la loro attenzione si parla di asteroidi e meteoriti dopo aver spiegato molto brevemente la differenza si parla di un paio di casi di casi scusate di meteoriti che hanno lasciato una traccia molto forte nella storia e nella preistoria da quello che 66 milioni gli anni fa ha fatto scomparire secondo le scienze dinosauri fino a questo molto più recente del novecento il mistero di Tunguska in Siberia che ha sempre affascinato scienziati e non solo anche qui vedete una pagina intera e poi quest'altro invece con un box siamo sempre nel volume 3 che ci dice una cosa che forse come dire dovremmo sapere ma in realtà spesso non sappiamo sicuramente non i ragazzi insomma 12-13 anni e cioè che noi ci muoviamo costantemente anche mentre sto parlando a 1200 km orari di velocità qui in Italia questa è l'attitudine perché se fossimo a Nairobi quindi vicino all'equatore viaggeremmo ancora più veloci a quasi 1700 km orari quindi una velocità ben superiore a quella di un aereo che fa un volo transcontinentale e ovviamente non ce ne accorgiamo perché non abbiamo come dire un riferimento che ci faccia vedere questo movimento un po' come quando viaggiamo su un treno con la tendina abbassata e non vediamo fuori non percepiamo non percepiamo nulla del movimento sentiamo solo magari con lo sferragliare ma non percepiamo il movimento e qui è la stessa cosa però viaggiamo costantemente tutti i giorni tutto l'anno a 1200 km orari come dicevo prima il bello delle curiosità della geografia è che è veramente una miniera enorme e estremamente profonda dalla quale raccogliere e tirar fuori curiosità in questo caso è una curiosità che si aggancia all'attualità e cioè questo progetto mirabolante che è già partito nel deserto saudita all'interno sicuramente parecchi di voi ne avranno sentito parlare di questo gigantesco progetto NEOM c'è la costruzione di questa città che si vede in questo rendering The Line si chiama questa città che andrà a costituire e se verrà ultimata perché è un progetto a dir poco ambiziosissimo il progetto urbanistico sicuramente più avveniristico e letteralmente fantascientifico della storia dell'umanità 170 km di città in un solo edificio alto mezzo chilometro e con un consumo di suolo modestissimo e con un potenziale da 9 milioni di abitanti quindi una città in un solo edificio dell'Ain perché ha questa forma lineare di ben 170 km come si diceva e qui poi si vanno a spiegare diverse cose carine di questo progetto appunto assolutamente avveniristico che i cui cantieri sono già stati avviati peraltro e poi ce n'è per tutti i gusti in questo caso siamo negli Emirati Arabi quindi allora gli Emirati Arabi come sappiamo hanno questa questa sono una sorta di vetrina piena di cose sfavillanti luccicanti grandi alberghi grattacieli più alti del mondo c'è anche un retroterra tutt'altro che luccicante di cui si parla brevemente si accende insomma nel testo ma restando la parte luccicante una curiosità una cosa carina sempre che può catturare l'attenzione dei ragazzi è il fatto che là è tutto totalmente faraonico che persino la polizia non si muove su delle ordinarie automobili come avviene in Italia e in tanti altri paesi ma dispone di un parco auto tutt'altro che ordinario come vedete qui nella foto la polizia viaggia in Lamborghini Ferrari McLaren addirittura Bugatti e chi più ne ha più ne metta sono tutte cose ripeto che servono catturare l'attenzione ma se vogliamo anche perché no ad alleggerire un po' non dico le pagine perché credo che siano già state concepite con anche delle belle foto molto spazio alle illustrazioni in maniera leggera ma ad alleggerire magari un po' la lezione perché no con qualche aspetto appunto che vuole essere soprattutto curioso e a proposito di curiosità e di cose che possono interessare i ragazzi questa pagina che riguarda il Pakistan mi dà lo spunto per dire un'altra cosa che caratterizza questo corso cioè il fatto che diversamente da quanto accade spesso ed è sempre stato così mi ricordo anche i miei libri di geografia di qualche decennio fa abbiamo evitato evitato proprio le lunghe elencazioni di prodotti di industrie vari tipi di industrie sapete gli elenchi con industrie siderurgiche metallurgiche meccaniche chimiche tessi alimentari bla 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 e poi si va al paese dopo e ci sono ancora le stesse industrie in un ordine diverso anche sembra che ci sia sempre tutto dappertutto e per i ragazzi questa è una cosa terribilmente noiosa in realtà quindi abbiamo detto bando ai lunghi elenchi andiamo sulle cose peculiari le cose più salienti quelle che caratterizzano di più il paese in questo caso si parla di industrie può essere qualunque altro aspetto e piuttosto tiriamo appunto fuori qualcosa di carino e di particolare in questo caso per esempio appunto invece del lungo elenco dell'industria si parla anche di qualche tipo di industria perché se si parla di Pakistan non si può non parlare un accenno al settore tessile che è esploso negli ultimi decenni ma soprattutto c'è questa geoconiosità sul fatto che in Pakistan in particolare in una sola città del Pakistan il che rende la cosa ancora più carina si producono più dei due terzi di tutti i palloni da calcio che si producono nel mondo sono più di mille fabbriche in una città specializzate nella produzione di palloni da calcio che sono quelli che poi troviamo anche nelle nostre catene di negozi sportivi in Italia e quelli con cui giocano i nostri ragazzi all'oratorio per dire ma anche quelli che si usano in mondiali di calcio come quelli disputati non molto tempo fa in Qatar perché producono anche come dire palloni di eccellenza anche in questo caso credo che sia una cosa veramente potenzialmente in grado di far dire una volta tanti ragazzi che la geografia non è sempre necessariamente inesolabilmente noiosa qui un altro esempio ancora in questo caso siamo in Nigeria e in questo caso un'altra cosa particolarissima a mio avviso io credo che pochissimi sappiano che in Nigeria in particolare a Lagos che come sapete è la metropole insieme al Cairo più grande del continente c'è questa straordinaria industria cinematografica che in occidente largamente ignoriamo talmente straordinaria da essere la terza del mondo dopo la Hollywood californiana e la Bollywood di Mumbai in India ma forse addirittura la seconda credo per il numero di film prodotti che arrivano anche a 2500 all'anno e tra l'altro un'industria cinematografica in continua crescita tant'è che alcuni alcuni delle loro produzioni sono usciti ormai dai circuiti prettamente africani e si possono trovare anche sulle piattaforme di streaming più conosciute da Netflix a Prime Video eccetera eccetera e tra l'altro è anche una fonte di ricchezza per Lagos perché da lavoro niente meno che ha più di 300.000 persone quindi tutte cose insomma particolari che fanno scoprire delle realtà insolite e insospettabili spesso per vari paesi trattati qui vedete due pagine giuste apposte quella di sinistra riguarda siamo in entrambi i casi in Sud America quella di sinistra riguarda il Peru e allora c'è il caso assolutamente straordinario per me di questa città di 30.000 abitanti che è la più alta del mondo si trova a 5.000 metri di quota in nessun'altra parte del mondo c'è una città per giunta neanche piccolissima di queste dimensioni e qui ci sarebbe anche uno spunto poi per parlare delle condizioni in cui si vive queste quote a cui vivono tra l'altro molte delle persone di questa città che sono fondamentalmente lavoratori di una miniera d'oro sono lì per quello sennò probabilmente anche loro non starebbero a 5.000 metri e poi invece nel caso del Brasile si cambia completamente argomento c'è il caso di questa isoletta forse non conosciuta neanche da tutti i brasiliani che si trova davanti alle coste di San Paolo proprio a pochi chilometri e che è nota per essere il luogo al mondo con la più alta densità di serpenti velenosi ho fatto i conti in base ai dati che ho raccolto che ce n'è uno ogni quadratino in media ogni quadratino di 14 metri 14 metri di lato talmente brulcante di serpenti velenosi proprio coacervo di serpenti velenosi che l'accesso all'isola è vietato ripeto sono tutte cose che si aggiungono ai contenuti di base ovviamente non li sostituiscono quelli ci sono sempre ma che servono veramente almeno l'auspicio è quello a movimentare bene le pagine e a offrire degli spunti che riescano appunto a finalmente a catturare l'attenzione dei ragazzi qui non so Stefania se se vuoi dire qualcosa di pericolore sì allora grazie per questa carrellata mi collego a quello che dicevi che sicuramente questo appunto il profilo è un profilo rigoroso è un profilo che dà tutte le informazioni ma che appunto abbiamo ha già un suo stile divulgativo ha già espresso appunto il tentativo di non renderlo solo un opzionistico perché altrimenti veramente i ragazzi si annoiano ma un po' anche perché la geografia può dare tanto altro oltre che a nozioni e quindi queste geocuriosità sono un po' come delle finestre che si aprono per ritmare il profilo e quindi anche dare un ritmo più incalzante nella lettura e nello studio delle varie parti della geografia sempre per tornare a quali sono le strategie che abbiamo utilizzato nel libro per appassionare a questa materia un'altra sicuramente strategia è quella di cercare di far vedere come la geografia può essere vicina agli interessi dei ragazzi e delle ragazze questo sia per i temi trattati sia anche per una cura dell'aspetto grafico una grafica quindi accattivante sappiamo che è importante vedere delle immagini delle immagini grandi delle immagini che magari possono essere sorprendenti e quindi diciamo che abbiamo lavorato in questo testo su entrambi questi canali lascia a te ora la parola sì andrò mi scuserete se andrò un po' più velocemente ma giusto per non annoiare nessuno perché ci sono ancora un po' di aspetti su cui soffermarsi effettivamente con questa è un'altra soluzione ancora per cercare di avvicinare la disciplina ai ragazzi che non è basata quindi più sull'elemento curioso ma su altre cose che adesso andiamo molto velocemente a vedere per esempio graphic novel quindi il romanzo diciamo fumetti che poi in realtà si tratta di un paio di pagine credo molto carine riuscite bene per esempio in questo caso siamo nel volume 1 dopo le pagine sui combustibili fossili dopo le pagine sulle energie rinnovabili abbiamo immaginato come sarebbe la giornata proposta ai ragazzi come sarebbe una loro giornata senza energia è una cosa la quale non pensiamo mai perché tutti troviamo normale che schiacciando un interruttore si accende la luce che mettendo la spina nella presa possiamo caricare lo smartphone i ragazzi poi queste cose la fanno molto spesso che girando una levetta un miscelatore possiamo fare una doccia calda la sera ma con il trauma dello shock energetico degli scorsi anni abbiamo imparato che anche questo non è poi sempre necessariamente così scontato e allora appunto qui con questo personaggio con questa ragazzina abbiamo proposto in forma di fumetto ai ragazzi la loro giornata come sarebbe la loro giornata senza energia fumetto che viene poi riproposto anche in altri punti di questo volume come anche del volume 2 e del 3 ecco questo è un altro esempio di pagina che può essere così friendly anche proprio come diceva Stefania Meda per il modo in cui viene presentata anche per la grafica questo grande disegno in alto con i dinosauri è una domanda anche qui in questo caso appunto ancora la domanda che apre la lezione e che trova la risposta come vedete evidenziata in giallo sotto spesso c'è ancora la convinzione forse non sono i ragazzini che dinosauri e uomini abbiano convissuto perché è una convinzione che ci viene tramandata dai cartoni animati che guardavamo da piccoli e non solo e allora in realtà si va a spiegare che c'è uno sfasamento temporale di molte decine di milioni di anni e lo si fa appunto con una grafica carina sicuramente piacevole in questo caso siamo all'inizio del volume 3 ho preso questa doppia perché c'è prima di queste due pagine un'altra pagina che apre i continenti e poi queste due pagine che per ogni continente vanno a riprendere i record i record geografici quindi dalla montagna al fiume al lago le temperature eccetera eccetera e poi per ciascuno una curiosità particolarmente accattivante anche qui veramente le cose più diverse nel caso dell'Europa per esempio il fatto che in Portogallo abbiamo le onde più alte del mondo con surfer che arrivano da tutto il mondo per cavalcare queste onde anche qui tra l'altro si presta degli approfondimenti perché poi giustamente un ragazzino può dire ma perché proprio lì ci sono le onde più alte del mondo e c'è una spiegazione legata alla conformazione del fondale marino antistante alla costa onde di 26 metri addirittura più che alla Hawaii più che in California che sono noti come paradisi dei surfisti oppure non so la località in Asia dove cioè in Asia che poi è la località mondiale dove piove di più qui vedete che c'è questo paragone con con un condominio con un palazzo 12 metri di pioggia in media all'anno e così via ogni continente insomma ha una sua curiosità su argomenti più diversi e poi quest'altra doppia che a me piace molto il mondo è in casa tua in questo caso siamo ancora nel volume 3 e si parla di globalizzazione e si è voluto parlare di globalizzazione all'interno come vedete in alto a destra di questa rubrica la geografia per riflettere in che cosa cosa vuol dire geografia per riflettere in questo caso vuol dire tradurre questo concetto un po' astratto della globalizzazione in qualcosa di molto tangibile molto percepibile dai ragazzi perché riguarda la loro vita quotidiana e allora abbiamo preso un ricco campione di oggetti che utilizzano quotidianamente da quello che c'è come vedete qua nel nel loro zaino a quello che può essere il corredo sportivo a quello che può essere il loro guardaroba eccetera eccetera le app del telefonino e così via dove sono prodotti e si vede che veramente abbiamo non solo i ragazzi in casa il mondo l'Asia soprattutto in buona parte come si vede che produce moltissimo di quello che abbiamo nelle nostre case quindi insomma ogni prodotto vedete con questi tiranti è collegato ad un paese poi c'è anche una breve descrizione altro esempio ancora questa non è una geocuriosità come vedete qui in questo riquadro geosport anche questo l'abbiamo usato diciamo con relativa frequenza lo sport dopo tutto fa parte anche della cultura di un paese di una nazione in questo caso siamo in Sudafrica e si parla del rugby che è lo sport nazionale diffusissimo in questo paese sono campioni del mondo attuali gli unici in grado di competere con i famosi all blacks neozelandesi e quindi è una cosa come dire che non è nemmeno come magari qualcuno potrebbe pensare un po' ruffiana perché in realtà appunto stiamo parlando di qualcosa che veramente fa parte della cultura del paese basta vedere come si scrive in questo breve testo qual è il numero in questo paese in Sudafrica appunto di praticanti di questo sport approfitto anche per dire che in questa pagina si vede un altro degli elementi caratterizzanti cioè laddove ci sono delle produzioni molto importanti per un paese l'abbiamo evidenziato molto bene qui vedete solo un piccolissimo esempio Sudafrica primo produttore mondiale di rodio che peraltro è il metallo più prezioso che ci sia molto più dell'oro quindi ancora una volta torna a quello che dicevo prima cioè no ai lunghi elenchi ma le eccellenze primati quelli sì ovviamente e evidenziati molto bene anche in pagina e qui appunto si vede un piccolissimo esempio in questo caso invece sempre per parlare di una proposta che vuole essere il più possibile friendly abbiamo messo questa è l'apertura dell'India vedete che c'è a sinistra una carta con tanti disegni che si richiamano ad aspetti particolari del paese possono essere monumenti animali aspetti che riguardano il lavoro l'economia poi c'è anche una carta ovviamente dopo geografico fisica e poi queste eccellenze del paese dove si è andato a pescare in ambiti molto diversi dal più grande parliamo dell'India appunto più grande produttore di frutta tropicale ai diamanti al a bollywood allo sport ancora e così via anche queste pagine per i paesi più grandi servono per avvicinare i ragazzi vivere in cioè immaginarsi di vivere in questo caso per esempio negli Stati Uniti in questo caso in Francia e vengono evidenziati alcune particolarità di questi paesi non so che per gli Stati Uniti riguardano il lavorare negli Stati Uniti studiare negli Stati Uniti il curarsi che non è esattamente facile negli Stati Uniti e così via e altre cose molto caratterizzanti in questo caso la Francia del volume 2 altro modo per catturare l'attenzione e soprattutto sempre l'auspicio appassionare alla geografia rendere semplici concetti difficili allora ecco per esempio che non so io ho sempre trovato che i miei studenti fanno una fatica terribile a capire la differenza tra grande scala e piccola scala allora vedete che qui non è solo spiegata nel testo ma è proprio visualizzata molto bene con questa infografica che insomma fa il massimo possibile per rendere questa differenza la più chiara possibile volevi dire qualcosa Scusami Sergio ti dico solo una cosa perché siccome siamo quasi alla chiusura e non so se avremo tanto tempo per lasciare agli spazi o alle domande dei docenti e dello docenti e magari siccome ci sono ancora tre punti direi importanti di questo progetto da far vedere ti lascerei chiudere questo ma poi passerei anche agli altri punti che credo che siano importanti che sono legati all'attualità e alla sostenibilità che sono sicuramente argomenti molto importanti e cui credo siano legati ai nostri docenti e docenti mi approfitto perché appunto non so se avremo tempo alla fine per rispondere a una domanda che ci è arrivata che è rivolta a te sull'importanza dei video in geografia volevo solo dire che sicuramente sappiamo che i video sono molto importanti per vedere anche per esplorare e che il corso oltre ad offrire dei video ha messo a disposizione anche degli itinerari costruiti apposta con Google Earth e anche degli scenari immersivi cioè delle immagini a 360 gradi che possono essere esplorate e questo sicuramente pensiamo che venga incontro un po' alle esigenze diciamo anche dei ragazzi che questi strumenti magari li conoscono meglio o comunque sicuramente offrirò la possibilità di un'immersione anche diciamo digitale e può venire incontro a queste esigenze e aiutare i docenti lascio a te la parola per andare appunto verso la chiusura grazie andrò ancora più veloce allora mi scuserete ma d'altro canto le tempistiche sono quelle che sono qui sempre appunto per semplificare ancora una volta con l'infografica quindi saldo naturale saldo migratorio e saldo demografico qui il PIL il PIL procapite sempre con l'aiuto quindi dell'infografica qui come dicevo prima invece l'evidenziazione nel miglior modo possibile credo dei privati qui siamo nell'economia della Cina e vedete che per tanti primati c'è questo bollino con primo in questo primo in questo primo in quell'altro e poi questa questa sorta di tabella riassuntiva con i disegni appunto dei tanti primati che questo paese detiene questa formula è stata usata un po' dappertutto nei volumi perché questo è importante perché studiare ci avviamo comunque alla conclusione perché studiare la geografia per saper leggere l'attualità la geografia dà delle ottime opportunità credo che poche materie possano competere con la geografia in questo senso per agganciarsi all'attualità di tutti i tipi in questo caso siamo nel volume 1 clima e ambienti siamo partiti come spunto dal ritorno di questo animale la lince sulle alpi per un progetto di reintroduzione che è partito in Friuli l'anno scorso e approfitto per dire che poi da questo argomento qui sotto vedete che c'è anche questo boxino attualità quindi si va a collegare la notizia con l'attualità e poi vedete qui a destra c'è il collegamento anche e questo vale per tutte le aperture di percorso a un podcast quindi la possibilità di ascoltare anche questo argomento in un podcast che dura 4 minuti circa quindi molto molto veloce ecco qui per esempio abbiamo un'altra apertura di percorso sempre legata all'attualità come sapete negli ultimi anni l'Unione Europea ha dato il via agli insetti nei nostri supermercati per ora pochissimi per la verità ma insomma c'è anche questa novità e allora anche questo è uno spunto per agganciarsi all'attualità qui siamo in apertura del capitolo sull'economia anche qui un'altra occasione ancora si parla moltissimo tutti l'han sentito in Italia del problema esplosione di cinghiali qualcuno lamenta anche il fatto che ci sono troppi lupi eccetera eccetera e allora abbiamo parlato anche di questo di questo tema che tra l'altro quando si parla di animali so che ai ragazzi piace sempre molto prima media poi moltissimo la carne coltivata in questo caso siamo nel volume 3 anche questo tema attualissimo anche qui spiegazione c'è un breve testo una spiegazione di come questo argomento si aggancia all'attualità e poi qui l'aggancio al podcast per ascoltare anche appunto per qualche minuto una spiegazione in questo caso per prendere un esempio diversissimo siamo nella rubrica questioni aperte la condizione delle donne in Iran paese dove in questi ultimissimi anni ne sono successi di tutti i colori approfitto per dire che è anche un corso aggiornatissimo abbiamo cercato di aggiornare tutto il possibile all'autunno del 2023 di più non potevamo fare perché poi bisogna porchiudere e stampare i libri in questo caso il rapporto tra le repubbliche baltiche e la russia di drammatica attualità dopo quello che è successo due anni fa e poi infine una geografia attenta anche alla sostenibilità all'educazione civica quindi non mancano appunto tutti i temi per esempio legati all'ambiente in questo caso si tratta del riscaldamento globale sempre con dati molto aggiornati in questo caso una rubrica che si chiama patrimoni ambientali ma sempre legata all'attualità con questo permafrost in Siberia che fonde con anche parecchi problemi annessi e connessi e anche qualche curiosità come questi enormi crateri che sono spuntati improvvisamente appunto nel suolo siberiano come conseguenza del fatto che il suolo ghiacciato fonde peraltro anche fuori uscita di metano con conseguenze ulteriori sull'effetto serra anche questi temi dei patrimoni ambientali in questo caso abbiamo una doppia secondo me riuscita molto bene su quello che è il re dei fiumi del mondo che non è il Nilo ma il rio delle Amazzoni qui si mettono tutti i primati di questo fiume e poi un campione molto rappresentativo della sua biodiversità e però qua si va a dire anche che c'è una grave minaccia tanto per cambiare che incombe anche su queste su questo fiume torno indietro soltanto un istante velocissimo per dire che laddove c'è l'apertura di percorso dove c'è il podcast vedete che il titolo è buone notizie dalla terra abbiamo insistito parecchio su questo perché di cattive notizie siamo veramente inondati abbiamo pensato che siccome ci sono bisogna qualche volta pescare anche le buone notizie diamine e insistere su quelle questa per esempio non è la buona notizia Mediterraneo è un mare di problemi e si va a parlare appunto delle varie problematiche che affliggono il mare Nostrum e infine la geografia per riflettere quindi la geografia che smonta i luoghi comuni la geografia che fa mettere in connessione i fenomeni tra di loro i vari argomenti smonta i luoghi comuni per esempio non so quando si parla di ambiente in Italia è un ambiente che sta sempre peggio tutto va peggio no non è assolutamente così per esempio abbiamo sempre più foreste abbiamo più foreste oggi che nella seconda metà dell'Ottocento quindi quando in quell'epoca in cui si vorrebbe che l'ambiente fosse stato un idilio un'arcadia no assolutamente no abbiamo molti più boschi in Italia oggi di 150 anni fa sempre nella geografia per riflettere perché gli appennini si sono spopolati le Alpi con due esempi di paesi uno delle Alpi e degli Appennini e l'importanza del turismo che ha giocato un ruolo fondamentale il caso molto attuale anche questo che riguarda la Puglia ma non solo insomma degli olivi di questo mostricciattolo in forma di batterio che ci è arrivato dal centro America e il disastro che ha combinato appunto negli olivetti pugliesi e poi lo spunto per parlare del fatto che globalizzazione vuol dire anche bioglobalizzazione cioè abbiamo prodotti che riempiono le nostre tavole che arrivano da ogni parte del mondo ma abbiamo anche tanti parassiti poi inevitabilmente che ci arrivano da tutto il mondo e qui c'è un piccolo campione questo si chiama proprio bioglobalizzazione e finalmente abbiamo anche ti abbiamo fatto correre mi spiace Sergio ma ho visto non ho nessun problema grazie però in realtà quello che volevo dire era appunto che anche la parte su cui siamo andati più veloce ma legata a attualità a sostenibilità è sicuramente un altro modo per agganciare l'attenzione dei ragazzi che credo che sia poi lo sforzo maggiore che ha fatto il professore e anche noi nella realizzazione di questo corso perché in fondo far capire anche come la geografia può aiutarli a capire l'attualità il loro presente è anche un modo anche chiave per far forse amare questa materia per quanto riguarda e infatti anche tutti questi anche argomenti legati alla sostenibilità l'agenda 2030 sono anche accompagnati da video e questo mi collego alla domanda appunto che ci hanno fatto i docenti sulla sulla capacità che hanno anche i video di attrarre o motivare i ragazzi nello studio noi abbiamo appunto ad esempio quando abbiamo degli argomenti legati all'agenda 2030 abbiamo sempre legati a dei video che spiegano l'obiettivo ad esempio ma abbiamo anche video che spiegano video lezioni che introducono gli argomenti del capitolo dell'unità di riferimento come vi dicevo abbiamo tutti quegli itinerari Google Earth e gli scenari immersivi oltre che a tavole illustrate esplorabili anche in digitali pensiamo che quindi sono tutti strumenti tra quello che offriamo nella carta e quello che diamo in disposizione anche nel digitale dei contenuti che possono aiutare appunto i docenti a fare geografia in modo anche interessante per i ragazzi per quando usare i video quando usare questi strumenti digitali che è un'altra delle domande che è comparsa nella chat questo libro trovate un QR code ogni volta che ci sono dei contenuti digitali collegati all'argomento quindi potete voi e gli studenti inquadrarlo e andare direttamente accedere ai contenuti digitali che a quella lezione o a quella pagina si riferiscono con cui potete espandere i contenuti di quella lezione o di quella pagina quindi questo pensiamo che sia molto utile perché trovate direttamente lì le indicazioni poi nella versione docente avete che sono 24 pagine all'inizio di ogni volume trovate anche un elenco di tutti i contenuti digitali che avete a disposizione divisi capitolo per capitolo per cui potete anche sapere di che cosa avete a disposizione per poter fare anche con contenuti digitali e affrontare l'unità adesso io intanto guardo non so se volevo solo aggiungere una cosa che anche un apparato didattico è presente in tutti i capitoli sia dedicato a un metodo di studio sia a un apprendimento della geografia in base all'osservazione quindi alla lettura delle carte così gli atlanti sono appunto dedicati proprio si chiamano appunto impara osservando dove troverete attività anche da fare con i compagni attività ludiche o attività di osservazione della carta anche in alcuni casi guidate Sergio non so professore se lei vuole se tu vuoi aggiungere qualcosa nel frattempo guardo se ci sono altre domande che siamo quasi alla chiusura ma abbiamo ancora 3-4 minuti ma niente di particolare se non appunto ribadire quello che che ho detto io prima ma che hai detto anche tu e cioè che è stato fatto appunto un grande sforzo e anche molto variegato di ricerca di tutte quelle in quel mare magnum delle potenzialità che veramente la geografia offre per come dire attirare gli studenti e quindi per fare veramente un capovolgimento nel senso che può veramente avere le potenzialità per passare da quell'idea comune diffusa per me che sono molto appassionato di geografia inspiegabilmente di materia noiosa a materia invece che caspita può darti una miriade di occasioni per lasciarti incuriosire se c'è un minimo di disponibilità insomma almeno gli irriducibili non li cattureremo ma vogliamo pensare che gli irriducibili siano proprio pochi ecco sì e sicuramente sono tutti strumenti che li aiutano a capire anche il loro presente che è in fondo il mondo dove vivono per cui in realtà per loro anche capire questa grande potenzialità della geografia sicuramente è importante c'era ancora una domanda sugli itinerari immersivi che in questo momento non possiamo ovviamente far vedere un po' anche per una questione di tempo però se vi fate attivare il saggio digitale dal vostro agente dovreste trovarne un esempio dentro per capire come sono costruiti poi gli altri saranno ovviamente disponibili nel momento del a settembre nella vendita collegati a ciascun volume quindi quelli potete trovare lì ma potete trovare anche altri esempi dei contenuti digitali che vi ho elencato prima quindi tavole illustrate l'esplorazione di una di una macro regione che abbiamo visto prima in modo tale che vi possiate fare un'idea anche dell'apparato diciamo dei contenuti digitali io a questo punto che sono le sei passate vi ringrazio tutti per l'intenzione attenzione ringrazio soprattutto Sergio Mantovani per questa appassionata presentazione di questo corso che appunto si chiama Geografia Viva proprio perché vogliamo che questa geografia sia bella viva appunto e spero di rivedervi presto se faremo altri incontri legati a questo corso sicuramente li troverete sponsorizzati sul nostro sito riceverete le slide di questa presentazione e per chi non avesse visto tutto se volete proporre di vedere questo video ai vostri colleghi sarà sempre disponibile sulla nostra pagina YouTube ringrazio tutti ringrazio ancora te Sergio Mantovani e a presto grazie grazie a tutti